Da un lato il mercato che riaprirà i battenti con il nuovo anno, dall'altra la necessità impellente di fare punti per far sì che la finestra di gennaio non resti fine a se stessa. Sono due i fronti caldi per il Pescara che domenica prossima riceverà all'adietico Cornacchia il Bologna di Roberto Donadoni. Come detto c'è il mercato, difesa e attacco sono i reparti che necessitano dei principali correttivi. I nomi per il fronte offensivo sono quelli di Ante Budimir e Vittori Barbo. La punta ora alla Sampdoria potrebbe arrivare in prestito, specie se in Blucerchiato dovesse giungere dalla Lazio Filippo Giorgevic. Budimir lo scorso anno è stato assoluto protagonista del crotone di Juric, promosso direttamente in Serie A. Per il colombiano Ibarbo, che sta per chiudere la sua esperienza in Grecia al Panathinaikos, si tratterebbe di un ritorno in Serie A, dopo gli ottimi anni al Cagliari e quelli meno brillanti alla Roma. Maurizio Piniglia ha già salutato i tifosi dell'Atalanta e benché sia ben visto dagli sportivi biancazzurri un suo arrivo in rival adriatico, il Cileno sembra però fuori portata a livello di ingaggio e potrebbe tornare al Genua. Per la difesa ritorno di fiamma per Cesare Bovo del Torino, che in estate era stato praticamente acquistato dal Pescara, salvo un dietro front all'ultimo istante. Intanto la squadra prepara la partita di dopodomani, nella quale mancheranno Mitrizza, Baibac, Pepe, Biraghi e lo squalificato Aquilani. L'annatore Massimo Odo dovrebbe confermare dieci undicesimi della squadra sconfitta all'uscita con Manai al posto di Pepe, ma confidando in un atteggiamento diverso. Nel Bologna mancheranno Rizzo e gli attaccanti Verdi e Sadik, vicino al forfè l'ex Federico Di Francesco, il figlio di Eusebio era in ballottaggio con Mugnet per un posto nel tridente, ma quasi certamente non ce la farà. Attacco completato da destro è Creici, in mediana Viviani e Naki si contendono una maglia per giocare al fianco di Tider e Zemaili. In difesa a certi di un posto Gastaldello, Maietta e Masina, dubbio a destra Kraft Torosidis, dirigerà Rocchi di Firenze. La partita mette di fronte due delle squadre peggiori del periodo, negli ultimi dieci turni sette i punti dei Felsinei, due per il Delfino. All'Adriatico in Serie A otto precedenti con due vittorie a testa e quattro pareggi.